buon pomeriggio a tutti con voi l'aila dallo studio uno radio tunisi canale internazionale e con noi oggi che si occupa dell'assistenza tecnica la nostra coordinatrice monira hammemi SOS Italia in Tunisia e con noi la rappresentante ufficiale dell'associazione in Tunisia Fadoa Mansoni benvenuta a Artesì grazie Leila buon pomeriggio a tutti Allora, se ci puoi presentare un po' SOS Italia, chi è SOS Italia, cos'è? Allora, SOS Italia è un'organizzazione italiana, è nata da quasi 15 anni in Italia è un'associazione non lucrativa di utilità sociale L'associazione SOS Italia occupa da anni di bambini delle popolazioni della fascia pre-sahariana e di gruppi di nomadi che vivono al confine tra la Tunisia e l'Algeria fornendo assistenza sanitaria, farmaci e generi di prima necessità nella cittadina di Duz esattamente nella cittadina di Duz, nel profondo sud tunisino garantisce periodicamente la fornitura di generi diversi, presidi sanitari ed interventi medici agli ospiti dell'istituto per l'infanzia abbandonata e le persone disagiate nell'istituto per portatori di handicaps Ok, e qual è il ruolo di SOS Italia? Cosa va esattamente? Allora, il ruolo di SOS Italia è di aiutare la gente hanno fornito di beni di prima necessità, dei villaggi nel deserto del sud tunisino sempre nel sud? Sempre nel sud della Tunisia hanno donato ad esempio alla mezzaluna rossa tunisina un diffibrillatore che era l'unico per tutta la regione hanno donato inoltre al piccolo ospedale di Duz apparecchiature mediche e presidi sanitari hanno consegnato materiali dettati alle piccole scuole di sperduti villaggi ad esempio nel 2015 hanno attrezzato un'aula multimediale cioè hanno donato 10 computer all'istituto per l'infanzia abbandonata di Duz dove negli anni precedenti hanno portato sempre materiali scolastico e abbigliamento Nell'anno scorso, ad esempio, nel 2016 sono andati alla ricerca dei nomadi nel deserto e hanno portato 10 coperti un quintale di salio, un quintale di zucchero e degli abbigliamento e scarpe medicinali di prima impegno e hanno raggiunto 10 gruppi familiari per in totale di circa 150 persone Ok, quindi questo è il ruolo, quindi aiutano Aiutano la gente Sì, e le attività, allora, dove sono per il momento, quindi sono arrivati ieri Sono arrivati ieri, sono andati direttamente alla Sahara, al deserto Sì, a dove? A Duz, a Duz Sempre a Duz Ok, e allora, quali sono le attività che offre a S-Italia? Quest'anno Sì, quest'anno, cosa hanno fatto l'anno scorso, gli anni precedenti Sì, dicevo prima che l'anno scorso sono andati alla ricerca dei nomadi nel deserto e hanno portato tante cose e hanno aiutato, cioè, tante famiglie alla cittadina di Duz e hanno portato quasi 10 computer e degli abbigliamenti, tante cose E quest'anno? Allora, quest'anno la cosa è diversa perché per quest'anno la missione sarà la ricerca dei nomadi e il prilievo del DNA Ok, il DNA Con l'università La Sapienza di Roma e l'università tunisina Cioè, nel senso che per quest'anno hanno il compito di prelivare il DNA e dei nomadi e fare dei questionari sulla condizione igienica sanitaria Ah, soltanto per quello? Sì, soltanto per quello, sì Cioè, hanno cambiato il lavoro, cioè, in Tunisia Per quale motivo? Il motivo è, cioè, perché il presidente dell'associazione è un dottore Ok Cioè, un medico D'accordo Cioè, lavora nel campo sanitario, ecco Allora, ha deciso quest'anno di fare questa missione, la ricerca, questa missione per elevare il DNA dei nomadi Cioè, nel senso, cioè, diciamo, una missione culturale, cioè, per migliorare il lavoro con l'università tunisina Quale università? Quella di medicina? Sì, l'università della medicina e l'università della Sapienza di Roma Ok, d'accordo Allora, per le persone che vogliono fare volontariato Sì Allora, per chi vuole fare, partecipare, non lo so io O far parte di SOS Italia, cosa bisogna fare? Sì, possono partecipare a questa organizzazione italiana Ad esempio, quando arrivano ogni anno Possono partecipare alle attività di SOS Italia Di andare al sud tunisino Di portare anche loro, cioè, dei prodotti e delle cose per aiutare la gente Perché noi abbiamo, ad esempio, l'anno scorso abbiamo fatto un accordo con un'altra associazione tunisina Che si trova a Sfax, cioè, un accordo per lavorare insieme Ok, una cooperazione Una cooperazione, sì Una cooperazione tra l'Italia e la Tunisia Ok, dai facciamo una piccola pausa musicale con Club Dog, Fragili Stavamo ascoltando NECS e telefonando Stavamo parlando, quindi, di SOS Italia con Faddua Mansuri SOS Italia che si trova oggi nella città di Duz Che quindi sono partiti per una missione In collaborazione con antropologi e archeologi dell'Università La Sapienza di Roma Nell'ambito di un progetto in collaborazione con l'Università di Tunisi e l'INP E quindi questa volta si occuperanno del prelievo di campione di DNA E della compilazione di questionari sulle condizioni igienico-sanitarie Dei gruppi pastorali nomadi Erbeja E quindi hai qualcosa da aggiungere? Sì, allora, dico, cioè, invito, alla fine invito la gente, cioè, le persone che vogliono aiutare la gente a Duz E di lavorare con SOS Italia, cioè, di portare dei donati e degli abbigliamenti Qualcosa Quindi per adulti o per bambini? Sì, per adulti e per bambini Quindi scarpe o abiti usati? Sì, oppure possono anche portare, cioè, generi di prima necessità Ok, perfetto Quindi invitiamo la gente, quindi per chi vuole partecipare E possono anche seguire, cioè, questa missione sul prelievo di DNA a Duz Ok, d'accordo, quindi per chi vuole partecipare Sì Con una piccola donazione Scarpe o abiti usati per adulti o bambini Fadua, ti ringrazio molto di essere venuta Grazie mille E spero di avervi tutti insieme qui a Radio Tunisi Grazie Canale internazionale Dai, continuiamo con la musica Con Francesco Renga Il mio giorno più bello nel mondo Grazie mille